Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la Sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Il pensiero di questa mattina ci ricorda che noi da soli non possiamo nulla. Lo Spirito Santo parla alla nostra mente e ci avvicina al pensiero di Dio, ci avvicina al suo amore, alla sua grazia. Riconoscere umilmente la nostra condizione di dipendenza da Dio ci permette di instaurare con Lui il giusto rapporto. Un rapporto che però dà i frutti a questa relazione. Quelle possibili opere giuste che compiamo non vengono da noi in modo diretto, ma sono frutto della relazione che abbiamo con Dio. Ricordati che la mia e la Tua salvezza è data per la misericordia di Dio e il Suo incommensurabile amore per noi. Un amore che ci ha portato a fare una scelta che ci ha cambiato la vita. Ma non è una cosa solo passata. Non dimenticarti che questa salvezza ci può rinnovare ancora oggi, rendendoci donne e uomini che possano dare un valore aggiunto alle nostre comunità. Buona giornata.